Immersit è un accessorio di interni che applicato sotto al divano lo dota di vibrazione e movimento alla fine di migliorare l'esperienza videoludica. La campagna di raccolta fondi di Immersit sta avvolgendo al termine e le consegne inizieranno a dicembre del 2016. Come funziona? Il sistema è azionato da un software originale compatibile con Xbox 360, Playstation 3 e 4, Linux e Windows. Il movimento è generato da quattro pad indipendenti che, afferma la compagnia, possono generare fino a mille movimenti diversi. La funzione vibrazione riesce a simulare le sollecitazioni subite dalla sostenzione di un'auto lungo un percorso accidentato.